Maestro Mazzocante per i 190 anni di Beethoven, un evento straordinario al Marrucino domani sera, la possibilità per lei di questo duetto con il miglior pianista al mondo, come lei lo ha definito Alexander Cobrin? Sì, in realtà sarà una staffetta perché noi ci alterneremo sul palco nella prima parte, esigureremo una sonata a testa e anche nella seconda. Poi Alexander Cobrin, nella mia generazione, io quest'anno ho compiuto 40 anni, lui ha qualche anno meno di me anche, è sicuramente il pianista più importante al mondo, vincitore dei più prestigiosi concorsi in assoluto, è un'icona per la musica classica e per il pianismo internazionale. Tra l'altro lui è russo ma vive a New York, ormai insegna in una grandissima accademia, la più prestigiosa probabilmente al mondo e ho la fortuna, l'onore, l'onere di ospitarlo come anche amico qui a Chieti, ma devo dire la gioia di poter proporre una serata speciale di grande cultura e anche di grande intensità perché chi ci sarà potrà veramente vedere dal vivo, da vicino, vivere, a parte me che sono delle città e mi hanno già ascoltato tante volte, ma vivere un grande artista. Presidente Sicari per la deputazione, insomma, è un grande evento anche perché ci avviciniamo ai 200 anni del Teatro Marrucino, possiamo dire che è una sorta di bell'antipasto di quello che potrà essere il prossimo gennaio. Certamente l'auspicio per il bicentenario è un bel viatico, noi pensiamo di avere il maestro Uto Ugi, il maestro Pappano, insomma ci stiamo muovendo per avere nomi di altrettanto livello al bicentenario, è evidente che poter celebrare un evento così importante come la vita così lunga di un teatro all'italiana, così bello, così ben tenuto e noi speriamo anche ben condotto, ma insomma questo poi lo dirà il pubblico, è qualcosa di importantissimo.